madre madre supporto un creatore, killeranonimo89 in uno shop è semplice, è facile, è velocissimo e anche gratuito e allora cosa stai aspettando? scrivi killeranonimo89 e premi su accetta are you ready? e bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente vi farò vedere 5 mappe per farmare tantissimi .xp in solo perchè alcune mappe se state con gli amici o li da te o li da lui quindi è meglio se li fate in solo e non solo, prima di iniziare lascia un bel like iscriviti al canale se si nuove e attiva la campanellina essendo che siamo sotto natale oggi ad un mio iscritto che mi segue ad ogni mio video gli regaliamo qualcosina vediamo, vediamo un poco uh, bello gli regaliamo questo usa anche il mio codice creatore quindi ragazzi fatelo anche voi e prego, oggi è toccato a te come regalo ragazzi vi consiglio sempre di fare le mappe verso le 3 circa perchè ve ne da molti di più questo video lo sto registrando prima delle 3 però vi faccio vedere che facciamo la classifica qual è la mappa più adatta in questo momento ragazzi al quinto posto mettiamo la pro ffa perchè non è che ne da tantissimi di .xp però li da, questa è una cosa che li da allora abbiamo 3 opzioni per avere i .xp la prima opzione è ogni livello, cioè le kill se giochiamo in pubblica ogni livello che facciamo ci da i .xp più le kill guardate io sono a livello 10, il livello 10 è quello massimo in più raga qui se arrivate a più 100 vi da 160 .xp però una palla in più vi faccio vedere un'altra cosa se voi salite qua e qua e qua e ballate raga e si balla vi da tanti .xp però non molti per chi ha giocato tanto a me me ne da 2 o 3 alla volta a fk però li ho già soffriti tutti e adesso andiamo alla quarta mappa allora ragazzi al quarto posto metto la 1v1 build fight che vi da alcuni .xp quando resettate in più se voi andate costruite dietro la cassaforte vi da alcuni punti a fk in più una nuova cosa che non tutti sapevano ora vi faccio vedere devo salire quindi eccomi qua quindi guardate quanto sono un mostro se noi continuiamo a buildare verso l'alto raga al massimo dobbiamo essere io mo faccio i 90 adesso vi faccio vedere perchè se voi andate al limite di sopra della mappa cosa succederà vi teletrasporterà ecco qua 1108.xp se voi fate sempre questo è ottimo e proseguiamo e ragazzi al terzo posto abbiamo la city winter basta che spawniamo andiamo qua ragazzi vogliamo vogliamo dobbiamo andare a rubare un diamante io diciamo sono eccolo qua eccolo qua la banca basta andiamo diciamo che dovete fare sempre questo perchè questo è l'unico modo per avere i punti xp più le kill che fate vi danno più punti xp ragazzi a me me ne da molto di meno sicuro perchè sono a livello molto alto sono a livello 115 quindi voi se siete a livello basso ve ne da molti di più ecco ogni volta dovete fare questo più le kill le kill ne da tante di punti xp è 195 ma sono a livello grande quindi se voi siete a livello basso raga vi da almeno almeno 2500 o 3000 punti xp ogni volta che fate questo prossima mappa ragazzi come seconda mappa metto al posto rosso conto blu perchè non solo potete guadagnarvi i punti xp con le kill ma in più se fate 3 kill oh dove vai vieni qua tesoro è mia ok fatto però non solo perchè adesso vi faccio vedere raga 2 guardate se fate 3 kill consecutivi vi da più punti xp se ne fate 5 ve ne da ancora di più allora 1 ecco ehi a scappa madonna scappa ah eccolo quindi siamo già a 5 adesso vi faccio vedere anche il 7 se riesco a fare le 2 kill dove vai dove vai ecco quindi siamo a 6 kill consecutive e ragazzi guardate boom 7 kill raga assurdo ho fatto 2000 punti xp non ce l'ho visto in più quando fate questo c'è anche la cassaforte che ve ne da tantissimi ragazzi niente da dire andiamo alla prossima mappa ragazzi questa è la migliore mappa in assoluto la metto al primo posto perché vi faccio vedere tutte le cose adesso sono le 3 ci sono anche resettati i put xp quindi ne dovrebbe dare di più ragazzi assurdo parto dalle macchinette lo abbiamo qua 5 macchinette qua poi abbiamo altre macchinette qua e qua e poi abbiamo il terzo piano e tutte le macchinette vi danno i punti xp vediamo una mappa con 294 e che succede se faccio così madre 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 ma che roba sto guardando e non solo rimanete attivi non solo rimanete attivi perché vi faccio vedere nuovo livello vi faccio vedere una cosa assurda raga rimanete attivi rimanete attivi mi raccomando iniziate a lasciare di nuovo like doppio like se ancora la devi fare iscriviti e seguimi su instagram ragazzi è assurdo in più ci sono dei bot qui vediamo ogni bot oh oh ti ho detto qualcosa ragazzi due bot 190.xp in più abbiamo ragazzi è assurdo veramente 7 bit 4000 4000 4000 4000 4000 raga e non è finita qua ce ne sono altre adesso vi faccio vedere non è finita voi pensate che intanto ci sono altre due opzioni qua quindi vedete qua raga cioè voi premete video.xp assurdo in più andate sul support creator killer anonimo 89 ballate raga è finito è finito ve li darà infiniti raga fine domani mattina non finiranno mai mai raga non finiranno mai e poi mai questi punti xp mai e queste erano le 5 mappe che davano i punti xp li ho classificati e se in 24 ore raggiungiamo 100 like raga e altri 10 follower su instagram io mi metto altri 5 mappe da soffrire da soffrire soffrire perché a un certo punto la epic dirà cavolo toglierò i punti xp che si faranno in critico perciò raga fatelo adesso e non vi preoccupate bella i punti xp i punti xp i punti xp